Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. Oggi è la giornata mondiale contro il cancro infantile. Oggi, 15 febbraio, è la giornata mondiale contro il cancro infantile. Si celebra il 15 febbraio, data scelta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per informare e affrontare ogni anno le problematiche dei bambini e degli adolescenti con tumore. Conosco, non personalmente, una bimba che in questo periodo sta affrontando questa esperienza non del tutto piacevole. Voglio cogliere l'occasione per salutarla e per augurarle a lei e a tutti i bambini che stanno affrontando questa dura battaglia, un grandissimo in bocca al lupo. Cerchiamo tutti insieme di sostenere sempre la ricerca per sconfiggere questo brutto male. Il video si conclude qui e ne approfitto per salutare a Carlotta. Ciao Carlotta!